Quanti di voi hanno provato a fermare una per strada e chiederle il numero di telefono? Ai tempi miei si usava così, eravamo degli sfigati. Chiedevamo il numero di telefono. Che non si usa più sta roba adesso, cosa fai? Chiedi Whatsapp? Guarda ormai mi basta che mi dici il nome. Giorgia? Vabbè, ti trovo io online. Ai tempi miei invece, coraggiosi, cercavamo di avere quanto meno il numero di telefono. Una cosa che però non mi sono mai chiesto, in questi tentativi sempre fallimentari che ho fatto, è quanto potesse contare il contesto. Ci sarebbero alcuni studi che dimostrano che se tu chiedi il numero di telefono davanti a un negozio di scarpe o a un macellaio, sono un coglione poiché davanti di macellaio, l'ho fatto sì. La probabilità che una ti lasci il numero di telefono è molto più bassa rispetto alla probabilità che hai se gli chiedi il numero di telefono davanti a un fioraio. Perché le donne sono romantiche e questo background gli ispira questo romanticismo e la tua probabilità che ti lasci il numero aumenta. Allora, questo esempio del cazzo significa soltanto che è possibile installare nella nostra capoccia dei segnali, di cui spesso non ci rendiamo assolutamente conto, che aiutano a farci dire sì, ancora prima che la trattativa sia iniziata, ancora prima che uno stia cercando di venderti qualcosa. Il testo che suggerisco su questo tema è quello del buon Cialdini, che trent'anni fa ha scritto Influence e dopo trent'anni è uscito, adesso a settembre 2016, con Presuasion. In questo bel tomozzo che è divertente, l'ho letteralmente divorato, ci sono ben centocinquanta pagine di referenze a studi scientifici e note. Se volete approfondire il tema ce n'è da abbuffarsi. Qualcuno magari tempo fa ha visto il film Focus, quello con Will Smith. Vi ricordate come a volte usano queste tecniche di persuasione, di priming, per preparare la vittima e fare in modo di pilotare le sue scelte, le sue decisioni senza che neanche se ne renda conto. Alcuni esempi di Cialdini sono molto interessanti e riguardano magari la vita di tutti i giorni, con la premessa doverosa. È vero che alla base ci sono una marea di studi scientifici. Non è che uno necessariamente dica sì e lo convinci o veniamo convinti, ma aumenta la probabilità che questo succeda. Quando vai a chiedere le preferenze di voto negli Stati Uniti, se aggiungi la bandiera americana, le persone dichiarano di essere più repubblicane. Perché la bandiera americana è associata di più al mondo dei repubblicani. La bandierina lì nell'angolo, hop, sposto leggermente il voto. Così come il posto. Se voto in una scuola, voto più democratico. Se voto in una chiesa, voto più repubblicano. Il contesto impatta. Oppure hanno fatto questo esperimento. Provare a fermare le persone per strada per fare un sondaggio. Se avete mai provato a fermare le persone per strada, sapete quanto sia dannatamente difficile. Provando a fermarle così sullo zero a zero, 29% delle persone è risultato. Provando invece a fermarle, partendo da una domanda che non riguarda il sondaggio. Scusa, ti considero una persona che aiuta il prossimo? 79% delle persone o giù di lì si ferma. Predispongo il tuo stato d'animo, facendolo concentrare sulla caratteristica che voglio che tu vada a esprimere. È lo stesso motivo per cui se uno ti legge la mano, probabilmente ha ragione. Perché? Perché qualunque cosa ti dica è abbastanza irrilevante. Perché fa appello a questo meccanismo psicologico che viene dimostrato con il cosiddetto positive test strategy. Qualunque cosa uno ci indica, noi andiamo a cercare conferme dell'esistenza di quel qualcosa. Se uno ti dice, beh, probabilmente sei un tizio un po' testardo, tu immediatamente vai a cercare tutte le conferme nella tua vitaccia di quando sei stato testardo. E allo stesso modo se uno ti dice, sei uno molto aperto mentalmente, flessibile, tu dici, sì, in effetti hai ragione. Perché vai a cercare conferme a quello. Trucchetto semplice di chi legge le mani. E via così mille altri esempi. Il nome di un ristorante può incidere sul prezzo che io sono disposto a pagare? Sembrerebbe di sì. Un ristorante che si chiama ristorante 97 predispone a pagare di più rispetto a un ristorante che si chiama ristorante 27. Se prima di chiederti quanto è lungo un fiume ti faccio disegnare delle linee più lunghe, vai probabilmente a stimare che la lunghezza sia più lunga. Oppure pensate online quando ci sono questi moduli d'ordine. Ci avete mai fatto caso che spesso alcuni tizi, alcune aziende scrivono Clicca qui per confermare che vuoi aderire a questa magnifica offerta. Anche quella è una tecnicuccia banale di priming, di persuasion, come la chiamerebbe Cialdini, per far sì che tu sia pronto e convinto ancor prima di arrivare sul carrello. Testo molto interessante da leggere, quantomeno a scopo difensivo, per chiederci, la prossima volta che abbiamo comprato qualcosa, la prossima volta che ci hanno convinto a dire sì, proviamo a tornare indietro e pensare, oltre a quello che è successo durante la trattativa, durante la negoziazione, durante l'acquisto, che cos'è successo prima? Perché sembrerebbe che il fattore che alla fine ci influenza di più non è tanto un fattore razionale economico, ma è l'ultima cosa che sono riusciti a farci entrare nel cervello prima di presentarci la fantastica offerta. Magari ci rendiamo conto che abbiamo detto sì, siamo stati convinti, semplicemente perché siamo stati presuasi. Grazie a tutti!